bella a tutti ragazzi un saluto dalla frecky family qui un altro video di signor baffori su gta ecco qua che siamo accompagnati dal mio amico i love magic mike che si fa una serie che spruzza ok io sto oh mio dio vadoo che mazzata che gli ho dato mio dio che mazzata perché ti sparo con la pistola senza colpi no è rimasto solo il pura rosso oh cosa scappi tu oh 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 si fermi si fermi mi scusi s'allora con la mazza da baseball è tutto più migliore assai vieni allora ecco l'inizio di questo video sarà io e dave che ci prenderemo a botte no aspetta fermo un attimo dobbiamo fare la rapina dobbiamo fare una rapina entriamo nel negozio tranquilli con un mitra in mano proprio con tranquillità enorme allora allora io voglio prendere una bevanda prendiamo subito una bevanda perché da così che si comincia ecco scusiamolo un po chi è che ti ha tirato un cazzote in faccia allora e mi sposi ce l'hai gli earthquakes lei ha degli earthquakes mi dia i suoi earthquakes mi dia tutti i suoi soldi se no io li robo tutte le oh mi scudo no non volevo no 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 mi dia i soldi mi dia i soldi ho ucciso il mio amico ho ucciso il mio compagno io stavo ricaricando allora andiamo dalla cassa ok magari si spara no vabbè allora magari mi compro un poio di occhiali devo scappare devo scappare devo scappare ho rubato tutti gli earthquakes tu prendi la tua macchina e prendo la mia o sennò se vuoi salire tu vai a piedi ok allora ti do un passaggio investendoti vai 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 dave ce la fai io si vai dave che ti do un passaggio allora dovevo scappare allora la prima rapina è andata bene per intro del video come prima rapina è andata abbastanza bene eh sì sì vabbè per me è bene Dave è morto 100 volte qui non è andata tanto bene per Dave eeeh ah ma c'è ancora la polizia dei calcagni nnnnnn rip vediamo se la polizia sta a driftare mi scusi se allora al volo proprio gli ho chiesto allora al volo oddio 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 ok sinistra destra ok grazie Paolo mi hai messo in carreggiata eeeh adesso seconda parte del video dovremmo fare qualcos'altro tipo cioè seconda parte siamo ancora all'inizio del video che bella macchine oh aspetta minchia mi hanno sparato con un fucile a pampero c'ho Dave dietro ah ha sgommato dritto ro 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 ok si è minata la polizia allora seconda parte del video andiamo a fare una rapina al negozio di vestiti no allora cosa fa facciamo una partita a tennis bravo 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 un'idea geniale perché se non lo sapete io sto parlando con Dave che però non può parlare con voi automaticamente perchè allora Dave tu vai e metti nella mappa il segnalino che io che io ti mando a fanculo intanto tiè 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 buongiorno bella signora buongiorno bella signora allora eeeh il mio telefono segna le 14 e 48 e da un bellissimo al fruit a lei che ora segna l'orologio? segna anche lei? allora segna anche a lei quest'ora? oddio vieni qua vieni qua dimmi l'ora dimmi che ore sono Aia, scusa, stop Dimmi l'ora Dimmi l'ora E sono dieci Andiamo a giocare a tennis Sento la presenza di un poliziotto qua negli intorni Eccolo Non mi ha visto, non mi ha visto No, non mi può aver visto Non mi può aver visto No, mi ha visto, mi ha visto, scappa Corri, scappa, c'è il Nemesis Scappa, corri, scappa, c'è il Nemesis Ok, sono morto Ok, adesso andiamo a fare una bella rapina al campo da tennis E così che si fa Andiamo lì, rapiniamo tutte le palle da tennis che ci sono Ci facciamo i milioni, eh Dov'è, dov'è? 17 euro, beh, buono Eh, sono soldi, eh No, via via tutto Guarda, develo inseguere l'ambulante Ok Eccoti Mi scusi, mi può dare un passaggio Mi può dare Ti fermi, signora Ambulanza Aspetta che devo scavalcare i pali Sono Ok, vai, vai Sono dietro Devo essere curato Aspetta, tipo, posso sparare? Sì Aspetta Andatevene Non rompete i coglioni all'ambulanza Buongiorno, allora Oggi per la trasmissione Mela verde Andremo a A A sapere Come si fa a rapinare una bella ambulanza Allora Aiuto Ma come guidi? Ma come ti guidi? Via polizia Via polizia Via polizia Via polizia Ok Mi ha dato un po' via la polizia Allora Non lo so Allora Io c'ho ancora Aspetta, eh C'è la polizia che ci segue Abbiamo tre stelle Siamo poco ricercati E Allora E abbiamo anche un elicottero che ci segue Bene E mi scusi I blocchi I blocchi di blocco Non si vanno Allora Intanto io ti cerco Metto la cosa da tennis Vediamo Dov'è il campo da tennis? Cioè se poi c'è Allora Ok Mi sa che non c'è O forse lo devo ancora sbloccare O forse non c'è proprio Ah Ah forse non c'è perché sono ricercato Ha ragione mio fratello Allora Ricerchiamoci che è molto semplice Io sempre Allora Andiamo a fare una gita in montagna Vedi là Dobbiamo andare là Allà Mi scusi signor poliziotto L'abbiamo schiacciata contro la sua macchina Ma È così che va la vita È vivo È visto Oh mio dio Hitmark Hitmarker Hitmarker Quella ma Mi hanno rubato la macchina È lì È lì L'ha vista L'ha vista signore Oh ma vuole chiudere lo sportello Oh No Non posso mandare a fanculo La polizia Da dietro Oh Così mi fai male E' attento Che mi faccio la bua Che già Devo andare in infermeria Oh ma c'è passato uno dietro in bici Allora Oh Si allontani Che noi abbiamo gli earthquakes Oh Uno l'ho ucciso Uno l'ho ucciso Anche l'altro l'ho ucciso Via 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 Che noi abbiamo gli earthquakes Via Via Allora Li sto uccidendo tutti Sto uccidendo tutti Guarda Che frontale Che frontale Un'altra frontale Bene I camion hanno sbarazzato via la polizia Che ce l'avevamo No 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 Ce l'avevamo un'altra Abbiamo gli earthquakes Ah ho ucciso il guidatore Il volantiero Noi abbiamo gli earthquakes Andate via Che noi abbiamo gli earthquakes Ho finito le munizioni ormai Allora Oh mio dio Che bel botto Allora Vai 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 Io vado a piedi Tutti a piedi Tutti a piedi Ma io ho solo preso degli earthquakes Guarda la polizia Mi scusi Mi può regalare la sua macchina Oh Rubiamogli la macchina Scusi Mi scusi Aia Aia Ha fatto la camion Aia Oh botte Botte I nostri amici vogliono le botte Da casa Ti seguirò Ti ucciderò E poi Le palle ti taglierò Earthquakes Aia Chi è Chi è Wow Wow Schiva E ammazza Schiva E ammazza No Dottore Ce l'hai Earthquakes Scusi Ce l'hai Earthquakes Mi faccio Mi faccio Entrare Via via Che lei Non li ha Earthquakes No Chi è Questo Ce l'ho buttato giù dal trattore Ma do E contadini di sto gioco C'hanno tutti un fucile in mano Ma do Ciao Dave Non mi si avvicini To 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 Ok Vuole fare Rissack Vuole fare Rissack To To Eh Guarda come se la sviglia Guarda come se la sviglia To Tanto che la polizia mi uccide Ce la farò Uccide No Sono in posizione di sfondamento anale Eh Sei morto Allora Prima di finire il video Volevo fare qualcosa di sensato Ecco Hanno messo una taglia di mille dollari Su Mille bandiere Mi dia un passaggio polizie Allora Prendo una pistola scarica E la punto in testa a una donna Per farmi dare di sua macchina Mi dia la sua in macchina Quella sì che è una macchina Per fare un inseguimento Allora Scenda dalla macchina subito Perché io Ho La Pregnienza Ok Allora Tu deve Fai piano Con il tuo trattore Intanto Intanto vado No Voglio passare Voglio passare sopra la polizia Allora Intanto volevo subito scusarmi Anche se siamo alla fine del video Ormai E volevo scusarmi Con tutte le persone A cui Tengono Di vedere i nostri Minchiosi video Mi hai rubato la macchina E io ti faccio ammazzare Non è vero Come fa a sapere il mio numero Io non ho rubato nessuna macchina Questa è mia macchina No Una taglia di 3000 dollari E' stata piazzata su di te Oh Questa cosa non mi piace Dai Dave che ti sto aspettando Fai veloce Allora 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 Comunque mi stavo dicendo Mi volevo scusare Con tutti Perché Ci abbiamo messo un po' Per fare tutti i video di GTA Online Ma Cioè per fare i video seguenti di GTA Online Ma la serie riprenderà Più forte che mai Insieme a quella di Minecraft Perché anche quella di Minecraft Riprenderà Forse No scherzo Riprenderà Anche quella Però Più tardi Adesso la La Diciamo Stiamo pensando Di più Alla serie di GTA E il casteggio più totale Allora Andiamo a prendere Allora Guardate nella mappa grande In alto In alto In alto In alto In alto C'è un puntino rosso Vedete Ecco Quello è l'obiettivo Allora Cercherò di ucciderlo Lo ucciderò Verrò ucciso Chissà Comunque Questa è la mia ultima vita No Non è vero Voglio solo uccidere quel tizio Quando ucciderò quel tizio Il video finirà Se il tizio si spara Esplode Salta per rare Cosa del genere Non mi interessa Via Sotto Vieni qua sotto No Ma la polizia Tipo Ecco Fai prima in bici Vai Vieni Dave In bici Fai prima Allora Io spero tanto Che quell'uomo Abbia gli earthquakes Perché Se no Io non posso vivere Allora Non è difficile Da manovrare Questo Camion Con quattro ruote Motrici Versione GP Mi scusi Eh ho fatto L'assicurazione Nuova Allora Prevenzione Sugli assalti Sopra le macchine E So meglio Adesso posso farlo Quello quando mi pare Oh il semaforo Eh Il semaforo è il mio peggior nemico Meno male che Ho fatto impiantare Queste Mini ruote Allora Così Guidiamo così Nia Ci l'hai Earthquake Allora Siamo vicini Mancherà Più o meno Un'oretta di viaggio Per cui siamo vicini Dove sono Ah ok Tengo questa macchina qua Eh si questa macchina Ah Ti vedo Nella mappa Ecco Siamo vicini Siamo vicini Siamo 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 micini Dai Dave Ce la puoi fare In bici arriverai un giorno Allora Io mi sa che Se a piedi Lo investo Non lo so Te lo dico Quando l'ho ucciso Allora Cipollini 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 E' primo Cipollini Ma cos'è questo Cerchio rosso Cipollini Allora Io sono pronto La scimmia scende In sandali Con un Un bel gilè nero Prende fuori I suoi mitri di fiducia E' vicino Guarda Dietro il muro Non vede nessuno Vede qualcuno Sopra il tetto Che di sicura Cipollini 2 Allora si va a nascondere Di corsa Dietro la macchina Eccolo Io lo vedo Mi sta puntando Probabilmente Eccolo E' lui Cipollini Eccolo Vedete scappare Ma io lo ricorrerò Cipollini Cipollini Tetta sorpreso Cipollini Eccomi Eccomi Attacco banda Oh 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 ma chi è lei Oh ma chi è lei Ok Oh mio dio C'è del gas Di fianco a me Oh mio dio Non sopravviverò Cipollini Oh mio dio Vado a sfruttare il gas L'avevo detto io Cipollini Cipollini No 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 La futta teen La futto C'è la futta teen Oh ma è morto Ah no Non è lui E' lui là Oh mio dio Salta Salta Ok Ok Sono survive Allora Riprendo un po' fiato Come possiamo vedere I cipollini Ha due proiettili Impiantati nel torace Mentre uno E' sul braccio destro Proprio dove spara E' sul braccio preferito Cipollini Poveri cipollini Allora Vado dietro a sto qua Allora Mi faccio fuori tutta la ganga Gli amici per la ganga Allora Ecco il primo Fuori uno Fuori due No Fuori Si è fuori E' oh mio dio Questo mi spava Questo mi spava Questo mi spava Ok Ehm Dov'è Dov'è sei Dov'è lei Ok Fai fuori l'ultimo nemiche E' lì E' lì Ecco Ecco Attacco banda Complet Tata Ma tu non mi puoi uccidere Perché io sto facendo colpi alla testa 3 Sale di livello ragazzi Sono un bro Sono un bro E magari uccido pure No Non l'ho ucciso Però mi ha fatto fuori Bene ragazzi Questo è stato il video di I love magic mic E signor baffoni Un altro video di GTA IV Arriverà domani E Alla prossima puntata Con GTA V Arrivederci Grazie a tutti